A Pescara continuano a soffiare venti di burrasca a Palazzo di Città con l'operazione di rimpasto di Giunta che prevede anche l'ingresso di Gianni Teodoro e l'uscita di Giuliano Diodati. Un uomo stimato Diodati come ha affermato l'assessore regionale ai lavori pubblici Donato Di Matteo definendolo un professionista che non merita l'uscita. Faremo resistenza fino alla fine perché bisogna dare un senso alla politica di questa amministrazione dicendo basta a giochetti senza logica e strategie. Siamo pronti, ha detto ancora l'assessore regionale ad uscire dalle maggioranze tra cui quella della regione. Dopo la rivolta di Di Matteo e della deputata Vittoria Dincecco la situazione si è bloccata ed il rimpasto probabilmente slitterà di qualche giorno ma gli equilibri sono e restano sottili e la questione politica in Giunta diventa centrale anche considerando i risvolti che potrebbe avere a livello regionale. E a questo proposito è arrivata anche la nota del sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Ci troviamo di fronte ad un importante snodo politico amministrativo, ha detto il sindaco, che rende indispensabile fortificare l'azione della maggioranza in consiglio comunale anche in vista degli appuntamenti a cui l'amministrazione si approssima come il progetto di riqualificazione dell'area di risulta e il piano sociale del pacchetto urbanistico di Pescara. L'ipotesi di dover rinunciare Giuliano Diodati, ha detto ancora il primo cittadino, è una circostanza dolorosa per il legame di stima personale e politico costruito in tanti anni di lavoro insieme. Giuliano va rispettato perché rappresenta una risorsa sia per il presente che per il futuro. E con queste parole Alessandrini promette dunque un confronto con l'assessore uscente per conservare una collaborazione sulle questioni più importanti della città di Pescara. Al momento è forte l'impegno del primo cittadino che vuole arrivare fino in fondo per definire le nuove nomine e l'assetto della giunta e portare così avanti il governo della città nei prossimi 18 mesi ma la composizione della questione potrebbe però regalare altre sorprese.